L'Andol è tra le imprese vincenti 2022 selezionate da Intesa San Paolo. Quali sono i fattori di successo della vostra azienda e su cosa punta la vostra strategia di sviluppo? L'Andol si occupa prevalentemente di cosmetica, distribuiamo nel canale professionale e abbiamo anche una divisione in retail. Diciamo che il fattore di successo dell'azienda negli ultimi dieci anni è stato sicuramente la ricerca di persone, la ricerca di partner che ci hanno permesso uno sviluppo sia nazionale che internazionale. Abbiamo iniziato l'esperienza prevalentemente nell'ambito professionale, ad oggi invece abbiamo esteso anche al retail. C'è una divisione che si chiama Nasher Gun in cui ad oggi contiamo una ventina di negozi monomarca. Per quanto riguarda il periodo, sicuramente è difficile per tutti, soprattutto per quello che è stata l'incidenza dei costi e degli approvvigionamenti. L'abbiamo affrontato con grande determinazione. C'è costato, come a tutti è costato ovviamente, però devo dire che siamo riusciti comunque ad avere un anno di grande crescita e questo indubitabilmente lo dobbiamo attribuire sia alle persone che alla strategia dell'azienda. La crescita è stata sia in Italia che è il nostro mercato di riferimento e ad oggi stiamo sviluppando una presenza sull'estero dove contiamo già circa 50 paesi in cui distribuiamo, in una modalità completamente nuova che è quella della filiale. Quindi tendiamo ad assorbire e riassorbire alcune distribuzioni aprendo filiali dirette. Il supporto ovviamente del mondo bancario, compresa intesa San Paolo, è fondamentale per noi perché ovviamente avere a disposizione risorse per poter crescere, soprattutto per un'azienda come la nostra che investe molto, è determinante oggi. E quindi abbiamo sempre trovato grande disponibilità e questo ci ha permesso ovviamente di sviluppare con più velocità rispetto a quello che pensavamo.